Passiamo invece al nostro carissimo amico Cina In arte Cina In realtà squillante del Venezia Ragazzi arriva una vittoria importantissima Un 8 a 1 che oltre a fare morale Dà anche tre punti importanti ai fini della classifica La vittoria non è mai stata in dubbio Questa squadra non ha umiltà D'altronde con uno come Carlo Chiumiello E' anche giusto che sia così Siamo i favoriti Siamo marchiati Il marchio di fabbrica è Carlo Chiumiello Brucio ancora a Real Vesuviana No, ex Real Vesuviana Adesso è... A Real Vesuviana è da sempre Non sono per niente obiettivi Sono gli uomini delle finali, le hanno vinte tutte Ma non ci arriviamo anche Carlo, quanti quelli hai fatto? Tre, quattro forse Vabbè quindi è ancora il tiro del contesto Andata, andata Anche lui tre, quattro non lo so Faceva l'umile Antonello immerso E invece lui... Devo dire la verità stasera abbiamo giocato molto bene insomma L'avversario per un po' ci ha tenuto a testa Ci ha tenuto un po' a testa Poi piano piano abbiamo trovato la quadra E abbiamo cominciato a segnare la raffiga Non è da noi segnare così tanto Stasera ha girato veramente tutto bene Lo possiamo dire qual è l'obiettivo? È la Champions ovviamente E poi? Non lo so Alzare la coppa! Almeno cominciamo a presentarci magari Poi sta succedendo tutto molto in fretta Insomma tre partite, tre vittorie Stasera diciamo è stata quella là un po' più alla portata nostra Le altre due che abbiamo fatto sicuramente erano con un dipende superiore Noi abbiamo un po' due belle partite Schiacciasarsi? Sì, tre partite, tre vittorie insomma Forza questi ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao a tutti!